salve ragazzi ben ritrovati qui sul canale finalmente ci rivediamo un mesetto che manco qui da youtube ma sono stato parecchio occupato ho avuto veramente poco tempo per dedicarmi a fare video e quel pochissimo tempo libero che ho avuto l'ho sfruttato per cercare di fare qualche scatto interessante oggi sono qui in questa zona perché sto controllando un paio di punti interessanti dove fiorisce il timo selvatico un buon punto per trovare insetti per trovare farfalle di vario genere e di terivari quindi sto controllando un po come la situazione visto che teoricamente qui la fioritura dovrebbe iniziare a fine maggio ma ci troviamo a fine giugno e sta fiorendo praticamente adesso ve lo faccio vedere questo è timo selvatico come vedete non è ancora ferito del tutto come vedete qui sono tutti boccioli ce n'è soltanto qualcuno e in alcuni punti è un po più fiorito come vedete qui in questa zona è piuttosto fiorito questo è un buon punto dove potrei trovare vari insetti anche predatori perché si nascondono ovviamente tra i fiori e aspettano che magari un'ape una farfalla o qualche altro insetto si appoggi qui nei fiori ma oggi non sono qui per parlarvi di macro non vi porterò con me negli scatti che farò più tardi quando il sole scenderà ancora un po perché adesso non è proprio il momento per fare scatti ma ne vorrei approfittare per parlarvi di un prodotto che mi è arrivato circa una settimana fa ma cerchiamo un posto all'ombra e ci vediamo dopo la sigla per spiegarvi meglio dovete sapere che uno dei miei talloni d'achille quando sono qui nel bosco è il mio problema con le zanzare non so perché non ho mai capito la motivazione ma a me le zanzare mi attaccano a centinaia non so davvero come spiegare la cosa molti dicono che sia una questione di sangue di odori propri e capita spesso che quando vado a fare foto torni a casa con diversi diversi morsi addirittura molto spesso anche con alcune centinaia mi è capitato di tornare a casa e stare anche male quindi in questi anni la cosa che mi ha sempre accompagnato nelle mie uscite fotografiche è stato questo l'autan l'unica cosa che un pochettino alleniva questo problema perché davvero le zanzare a me attaccano da morire e negli anni ho provato anche altre soluzioni una delle soluzioni che ho provato per evitare di spruzzarmi autan e comunque continuare a spendere soldi in continuazione perché ne uso in quantità industriali è stata quella di provare un accessorio a impulsi con dei suoni praticamente a ultrasuoni ora non sto lì a spiegarvi il tutto ne ho provati diversi e nessuno di questi ha funzionato detto questo qualche settimana fa mi sono imbattuto in un prodotto su instagram che mi ha attirato un po' quindi ho contattato l'azienda e parlando un po' con loro mi sono fatto spiegare il funzionamento e mi è sembrata un'idea carina interessante non diciamo rivoluzionaria perché c'è poco di rivoluzionario però hanno avuto la intelligente idea di trasformare un prodotto che usiamo ormai da anni nelle nostre case e farlo diventare un prodotto portatile da usare in natura il prodotto di cui parlerò oggi si trova in questa custodia rigida molto carina arriva praticamente qui dentro e a me è arrivato sinceramente insieme a un altro prodotto sempre della stessa azienda che poi magari farò vedere un'altra occasione quando mi è arrivato ho fatto subito l'unboxing mi trovavo nel bosco di santo pietro e sinceramente speravo che fosse carico purtroppo non era nessuna carica e quindi non l'ho potuto provare il giorno stesso che mi è arrivato quando ho registrato il piccolo e breve video unboxing l'ho subito messo sotto carica avevo un power bank con me quindi dopo che sono andato a controllare un paio di fototrappole lì nel bosco ho visto che c'era una certa carica era quasi al 50% dopo un'ora e mezza più o meno di carica col power bank e l'ho provato praticamente subito ma vediamolo da vicino allora questo è il piccolo teeny rappel della flex tail questo piccolo sistema è un concentrato di tecnologia in una dimensione veramente ridotta e con soltanto 148 grammi di peso praticamente che cos'è? è uno strumento multifunzionale qui sotto ha un attacco standard da tre piedi filettato qui c'è una piccola calamita questo tubo all'interno nasconde una batteria da 4800 mAh che permette di utilizzare questo prodotto sia come luce da campeggio con varie intensità ora ovviamente siamo di giorno quindi apprezzare la luminosità è diciamo difficile è waterproof quindi potete immergerlo resista all'acqua è un Ipix 5 e un'altra cosa interessante di questo prodotto è che oltre ad essere una lampada e quindi anche un power bank perché la porta usb-c che trovate qui dietro non solo serve a ricaricarlo ma con un cavo usb-c usb-c potete utilizzarlo come power bank e andarci a caricare ad esempio il vostro cellulare ma la cosa che mi è piaciuta di più e quella che mi interessava di più è che oltre a poterlo agganciare quindi utilizzare come luce qui trovate queste due finestrelle e questi due fori questi due fori a che cosa servono? ad inserire questi questi sono dei repellenti per le zanzare avete presente i classici sistemi che si utilizzavano anche tanti anni fa come repellente delle zanzare con le presine da muro praticamente noi andavamo a inserire queste presine che avevano praticamente all'interno una piccola parte che si surriscaldava andavamo a mettere delle piastrine come queste e con il calore emanato e le piastrine praticamente rilasciavano il principio attivo che poi andava a far andare via le zanzare beh il funzionamento è identico praticamente grazie alla batteria interna c'è un sistema interno che surriscalda questa parte qui e quindi se ne facciamo un doppio clic vedete che qui si accende una piccola spia verde bene si è acceso il sistema anti zanzare e quindi da qui usciranno dei vapori che cacceranno via le zanzare ci sono due modalità questa verde che è la prima che è quella praticamente consigliata dall'azienda se si attacca questo sistema praticamente dentro la tenda mentre se volete qualcosa di più forte se la volete attaccare fuori dalla tenda o come ho fatto io in questi giorni attaccarlo allo zaino oppure addirittura alla cinta potete ricliccare questa parte qui e diventa rosso rosso significa che la potenza è raddoppiata e quindi il suo effetto diciamo è più forte e attaccata alla cinta praticamente dovrebbe proteggerci completamente dall'attacco delle zanzare perché in questo caso è al massimo della sua potenza e quindi dovrebbe sprigionare al massimo la sua capacità di repellere le zanzare allora io devo dire che l'ho provato in diverse situazioni ho fatto diverse escursioni circa due in un posto molto ricco di zanzare perché me ne sono andato alla fontana del cacciatore posto molto umido dove le zanzare praticamente sono a centinaia di solito i lami mordono tantissimo ho attaccato questo prima nello zaino poi per un po' l'ho tenuto alla cinta ho fatto qualche scatto lì e devo dire che il funzionamento non è stato affatto malvagio diciamo che qualche morso me lo sono beccato lo stesso ma di solito torno a casa completamente pieno in due ore che sono stato lì mi sono portato a casa soltanto un paio di morsi di zanzare quindi secondo me già da queste prime prove ero piuttosto soddisfatto poi ho fatto altre escursioni nel bosco come in questo caso oggi l'ho tenuto attaccato sempre alla cinta o allo zaino o l'ho utilizzato anche un paio di serie in campagna dei miei suoi sotto alla tettoia mentre gli altri guardavano la tv c'erano ovviamente le luci accese quindi le zanzare venivano attirate dall'illuminazione io questo l'ho attaccato a un dei paletti di metallo che regge la tettoia e io c'ero stato accanto e lavoravo il mio legno e devo dire che non sono stato assolutamente morso allora se dovessi darvi un voto devo dire che questo sistema si merita un bel 7 perché solo 7? perché si repelle le zanzare piuttosto bene le piastrine che vendono direttamente dall'azienda funzionano piuttosto bene anzi mi sembrano le migliori di che ho provato finora come sistema di piastrine però devo dire che nelle giornate di vento il suo effetto così all'aria aperta è veramente scarso diciamo intorno al 40% delle sue possibilità mentre quando l'aria è ferma e noi siamo fermi non ci muoviamo troppo e siamo fermi in un luogo che lei ha appoggiato vicino a noi il sistema diciamo di repellenza di questo oggettino è veramente ottimo quindi cosa dirvi? allora io sinceramente ve lo consiglio come sistema per quanto riguarda le piastrine mi sono sembrate leggermente care per quanto riguarda le piastrine ho fatto un esperimento praticamente a casa mi ritrovavo delle vecchie piastrine della Bengal un'azienda che viene venduta dalla Lidl e col suo sistema ovviamente di presina sempre diciamo che funziona con questo sistema a piastrine ho preso una piastrina loro e ho visto che praticamente la dimensione è identica se non fosse per una leggera differenza di spessore quindi che cosa succede? se ad esempio volete utilizzare questo prodotto con piastrine extra vi posso già dire che la misura è praticamente standard quindi utilizzano tutte le stesse misure forse cambia leggermente lo spessore ad esempio quelle della Lidl ci stanno leggermente larghe quindi possono cadere dall'alloggiamento specialmente se lo mettete così in orizzontale perché tendono a scivolare proprio per il loro spessore leggermente inferiore ma basta veramente pochissimo io ho messo una punta di uno stuzzicadenti in cima le ho bloccate e hanno funzionato tranquillamente anche loro quindi se non volete acquistare in caso le loro piastrine perché vi sembrano care o perché diventa complicato puoi andare a acquistare le piastrine sempre in continuazione fuori dall'Italia diciamo avete un'alternativa potete utilizzare piastrine magari a voi più convenienti che potete trovare qui in Italia perché le dimensioni sono praticamente quelle standard e niente che dirvi qui vedete un'altra cosa importante il prodotto arriva a 165 gradi ma non preoccupatevi anche se l'hanno messo qui la parte che riscalda è praticamente questa e nonostante scaldi tanto praticamente è impossibile ustionarsi perché come vedete la sto tenendo io con le mani è davvero molto caldo specialmente quando raggiunge la temperatura massima che si raggiunge dopo circa due minuti dall'accensione ma non dà nessun fastidio non vi potete praticamente scottare dovreste mettere il dito in pratica lì dentro ed è impossibile perché non c'è nessun foro che permette l'ingresso del dito la costruzione è ottima mi è caduto a terra un paio di volte mentre lo tenevo appoggiato magari su una pietra mentre facevo foto quando me lo toglievo dalla cinta perché certe volte poi questa sensazione di calore in questi giorni di caldo dà un po' fastidio quindi lo appoggiavo vicino a me quindi è caduto un paio di volte a terra si è anche bagnato e mi è caduto dentro una pozzanghera ha continuato a funzionare benissimo l'unica cosa che ho provato pochissimo è stata la sua funzionalità di powerbank l'ho provato soltanto diciamo come test con un cavo USB ho visto che ricaricava il cellulare però è finita lì non so effettivamente quanta forza quanta potenza in watt abbia per ricaricare il cellulare quindi non so che tempi di ricarica possa avere una cosa che posso dirvi invece per quanto riguarda la batteria è che in effetti come dicono loro la batteria riesce a durare ben quasi 8 ore loro la danno per 8 ore io ci ho fatto 7 ore qualcosa 7 ore un quarto 7 ore e mezza messo alla massima potenza quindi ottima durata della batteria per quanto riguarda le piastrine invece non riescono a durare 7 ore e mezza praticamente per quello che ho provato sulla mia pelle io già avrò consumato circa 16 piastrine di queste praticamente se esco la mattina lo attacco alla cinta e cammino per 4 ore poi le stacco il pomeriggio quando lo riattivo non hanno la stessa potenza perché ovviamente hanno preso già il primo calore poi si sono asciugate restando così all'aria aperta e diciamo che la loro funzionalità è di circa 6 ore di seguito diciamo così se cominciate a spezzettare durante la giornata accendete e spegnete secondo me si andrà a perdere la loro la loro forza il loro odore che emanano che repelle praticamente il tutto quindi fate attenzione a questo prodotto se lo utilizzate se lo accendete la mattina e lasciate le stesse piastrine la sera ovviamente non vi proteggeranno come dovrebbero e all'incirca come vi dicevo hanno circa 6 ore di buon effetto e niente volevo condividere con voi questa esperienza sicuramente continuerò a utilizzarlo e utilizzerò prima tutte le piastrine sue originali le alternerò a quelle che ho già della Lidl e in tutto penso che riuscirò a coprire tutta l'estate senza acquistare altre piastrine penso di avervi detto un po' tutto su questo prodotto dalle sue funzionalità fino al suo funzionamento effettivo in natura devo dire che nonostante come vi dicevo abbia delle leggere limitazioni è un prodotto che funziona le zanzare le tiene lontane io ho avuto comunque possibilità di testarlo su me che come vi dicevo sono una persona che attira particolarmente le zanzare e quindi posso dirvi che in effetti funziona come sistema repellente oltretutto se avete come vi accennavo prima un'azienda che magari vi ispirava più frutucia che potrebbe essere la Bygon l'Ave e altre aziende che producono piastrine per i loro prodotti probabilmente le potete infilare qua perché so che le dimensioni sono standard e quindi potete utilizzare qui anche roba di marca a cui magari vi affidate un po' più a cuore leggero quindi se non volete acquistare le loro piastrine potete acquistare quelle di terze parti prossimamente magari farò qualche esperimento con altre piastrine quando terminerò quelle della Bengal che vi dicevo della Lidl e quelle originali che ho trovato in confezione ovviamente potete acquistare anche quelle originali sul sito però dovete capire che le dovrete importare dall'estero dovrete attendere un po' e magari pagarle più care quindi non so in effetti se ne vale la pena oppure no perché questo prodotto come vi dicevo non viene venduto in Italia anche se su Amazon potete trovare il corrispettivo diciamo il modello più vecchio su Amazon Italia ma ve lo sconsiglio perché tutti si lamentano del fatto che ha una batteria veramente ridicola in effetti leggendo le recensioni il sistema è molto simile ha però soltanto una piastrina quindi l'effetto diciamo è minore e nonostante funzioni si lamentano per la batteria che è veramente ridicola e quindi la devono tenere attaccata a un power bank questo invece questo problema non ce l'ha perché come vi dicevo dura ben sette ore e più la batteria quindi finisce prima l'effetto delle piastrine che in effetti la batteria scarica e niente detto questo io vi saluto come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanella delle notifiche se non potete perdervi i prossimi video vi parlerò probabilmente di focus stacking ma presto ci sarà anche un video unboxing perché mi sono arrivati diversi pacchetti tra cui c'era anche questo e vi presenterò anche l'altro prodotto della stessa azienda che potrebbe essere interessante in questo periodo estivo specialmente per chi ha roba da gonfiare diciamo così ovviamente ci rivediamo presto qui con un altro video in natura e ovviamente anche su Instagram e Facebook con le mie foto naturalistiche ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti